Buon appetito! Buon appetito! Mini Quiche di Porcini con Emmental Pompiamo l'uovo in una bowl, aggiungo parmigiano, panna, pepe, sale, amalgamare il tutto Ora con una piccola teglia per crostate, vado a rivestire la teglia, tolgo la parte in eccesso Ora con una forchetta vado a buccherellare il fondo della pasta sfoglia, la tengo da parte Prendo i funghi sott'olio, li scollo dall'olio in eccesso Riprendo il mio stampo con la pasta, vado a riempire per metà con l'uovo, panna e parmigiano Ora aggiungo cubetti di formaggio E vado a posizionare i funghi sott'olio Ora vado in forno a 180 gradi per 12 minuti Sono trascorsi i 12 minuti, quindi vado ad impiattare la nostra quiche di funghi porcini Termino il piatto con foglie di alloro e del timo Ed ecco qui l'antipasto finito, un gusto tutt'altro che mini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti